Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Coronavirus, arriva lo stop del TAR, Macerescioli firma una nuova ordinanza valida fino alla mezzanotte di sabato, lunedì riaprono le scuole Sono 100 le persone in quarantena nelle Marche, 6 quelle risultate positive Sono i numeri diffusi dalla regione nel corso della riunione in prefettura Pesale Sono in miglioramento le condizioni di salute della coppia di anziani fanese colpita dal virus Effetto coronavirus sulle imprese marchigiane, si annuncia un calo del 50% nel settore del turismo e del commercio Il TAS ha assolto Filippo Magnini annullando la squalifica a 4 anni per doping combinata all'ex campione azzurro di nuoto Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto, benvenuti a tutti voi cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale Il Tar delle Marche dunque con decreto urgente del suo Presidente ha sospeso in via cautelare l'ordinanza con cui la Regione aveva disposto la chiusura di scuole, musei Inibito tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura fino alla mezzanotte del 4 marzo Al fine di contrastare la diffusione del coronavirus Ma nel pomeriggio il Presidente Ceriscioli ha firmato una nuova ordinanza che sarà valida fino alla mezzanotte di sabato Dunque le scuole riapriranno lunedì prossimo Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Pesaro dove ha seguito questa riunione alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della provincia e non solo Lino Balestra, Tellino Sì, buonasera da Pesaro La notizia appunto è questa Che le scuole rimarranno chiuse come avete detto da studio fino alle 24 di sabato Quindi aule di nuovo con gli studenti soltanto lunedì 2 Questa è la notizia che tutti quanti si aspettavano perché dopo l'informativa che era passata Dove il Tar aveva appunto preso posizione sulla delibera regionale Si era creata tra tutti quanti che hanno appunto ragazzi a scuola Tanta confusione, indecisione Ma come? Poi tra l'altro questa decisione del Tar è arrivata a tardo pomeriggio Oltre le 6 quindi era veramente al limite del tempo disponibile anche per le scuole di riattivare un po' e informare le persone Ceriscioli ha preso una posizione abbastanza condivisa da tutte le oltre 150 persone qui riunite nella sala della prefettura Perché oltre al comitato che c'è stato l'altra volta Formato naturalmente da amministratori, da forze dell'ordine e da tutti quelli che compongono il comitato di ordine e sicurezza C'erano anche gli amministratori del territorio Tutti i sindaci della provincia di Pesaro erano presenti e quindi c'è stato un dibattito aperto Tutti quanti seppur qualcuno con qualche sfumatura più che altro di carattere politica Politica appunto erano d'accordo a portare ancora avanti la chiusura delle scuole Anche perché il dato altro significativo della giornata è che il conteggio delle persone contagiate è salito a 6 Tre nuovi casi quindi e sono tutti nella provincia di Pesaro Urbino Come sentirete fra poco dalle parole dello stesso presidente Ceriscioli Che abbiamo intercettato appena uscito dall'assise E quindi prego la regia proprio di mandare la sua intervista Così sentiamo proprio dalle sue parole le motivazioni e anche lo stato delle cose al momento Prego Nuova ordinanza che da subito fino alla mezzanotte di sabato Con gli stessi contenuti di quella di prima con una motivazione molto più ampia Il Tar segnalava che il tempo era gelato e nel momento in cui l'abbiamo fatto non c'erano i contagiati Peccato che i giorni successivi, lo dico soprattutto per le persone, abbiamo avuto 6 casi di contagio Perché 6 casi? Perché sono aggiunti altri 3 Nel territorio della provincia di Pesaro Urbino Ma ce n'è uno particolarmente sensibile perché è un ragazzo di Morciano che frequenta liceo scientifico Io dico che se non ci fosse stata l'ordinanza della regione Negli ultimi due giorni questo ragazzo e i suoi compagni di classe eccetera Avrebbero girato per la scuola Quindi credo che la scelta della regione sia stata quantomai opportuna Mi dispiace per la subspensiva concessa dal Tar Noi procediamo con la nuova ordinanza perché crediamo non ci siano le condizioni Per riaprire immediatamente le scuole C'è un scientifico di dove? Di Pesaro Di Pesaro e Marconi E gli altri due casi? No positivi Dopo faranno la verifica ma la seconda verifica è sempre andata come la prima Perché la prima non l'ha fatta, la prima non c'era, era una notizia sbagliata Una fake Quindi i 3 che si aggiungono sono il ragazzo? Mi sembra 2 di Pesaro però adesso della provincia Io li ho aggiunti all'ordinanza perché sono arrivati i tamponi adesso Perché 6 segna un numero diverso Oltre 100 le persone che in questo momento stanno in quarantena per vedere se sono stati contagiati o meno Quindi questa è la situazione, molto diversa dalla prima ordinanza E spero che la seconda non abbia la sospensiva Ecco quindi 100 persone sono sottoposte a quarantena Quindi vedremo quale sarà l'evoluzione nelle prossime ore Di certo è che i 3 nuovi casi aggiungono motivazioni e supporto alla tesi Che aveva spinto il governatore delle Marche a emanare quell'ordinanza E su questo si è stati quasi tutti d'accordo Ora come ha detto lui si attende il secondo check sul tampone E' un check di verifica Spieghiamo che non è un secondo tampone Molti ce lo hanno chiesto in questi giorni Non si fa un secondo tampone E' proprio un secondo check sullo stesso tampone Magari anche con un altro kit di reagenti Proprio per avere la certezza E per evitare quelli che tecnicamente vengono chiamati i falsi positivi E avere la certezza Quindi siamo in attesa, sono in attesa Delle controprove, chiamiamole così Per questi 3 nuovi casi Però questo è lo stato delle cose Tra l'altro notizia anche questa freschissima E' che quasi sicuramente Lo diamo con il condizionale Ma probabilmente vedremo davanti al pronto soccorso di Fano Nelle prossime ore Un montaggio da parte della propria istituzione civile Di un tendone Questo è perché In previsione anche di un'evoluzione del contagio In maniera precauzionale Per essere pronti a fronteggiare qualsiasi situazione Ci si predispone per fare un triage esterno al pronto soccorso Senza far entrare le persone Che probabilmente potrebbero essere infettate Dentro al pronto soccorso Contaminando l'ambiente Quindi uno screening, un triage cosiddetto Verrebbe fatto esternamente Ma queste sono tutte misure precauzionali Che però probabilmente è meglio prendere per essere pronti Come anche specificato il sindaco di Fano Massimo Seri Che era presente qui insieme agli altri amministratori Ricordiamo oltre 150 da tutta la provincia E che ha tenuto proprio a dare segnali di rassicurazione A tutta la cittadinanza Per dire Noi ci siamo Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi situazione Quindi io prego la regia di mandare il contributo Che riguarda Massimo Seri E poi la linea può ritornare allo studio Fortunatamente il buonsenso è prevalso E devo ringraziare anche il Presidente della Regione Che ha capito l'emergenza Informiamo tutti i cittadini Che le cose non sono cambiate Fino a sabato sera a mezzanotte L'ordinanza non sarà modificata Quindi rimangono in vigore tutti gli effetti Della precedente ordinanza Se mi è consentito anche una piccola polemica Lavori fare Questo atteggiamento istituzionale Ai massimi livelli mi ha disturbato È il peggior spettacolo che si può dare alla gente In questi momenti la risposta è quella di essere Agire all'unisono E avere una visione condivisa Poi non si può magari essere sempre d'accordo Condividere tutto Però non si può giocare Facendo un'operazione di muscoli Tra governo e regione Come stanno i nostri concittadini? Avete notizie del loro stato di salute? Sì, fortunatamente c'è uno stato di miglioramento Anche sotto questo aspetto Quello umano Mi sento di farle arrivare questo messaggio A lei, ai familiari Che siamo tutti vicini I cittadini Vorrei trasmettere un messaggio anche chiaro Non sopravvalutiamo la situazione C'è anche un'isteria Un allarmismo esagerato Ecco, teniamo bene le cose Chiamiamo le cose per quel che sono La gente, nell'attenzione Ovviamente, però deve sentirsi anche tranquilla Bene, avete sentito dunque Questo braccio di ferro Tra il governo e la regione Non è un bello spettacolo Lo ha detto anche il sindaco di Fano poco fa Massimo Seri E oggi ha ribadito il concetto Rincarando la dose Il consigliere della Lega Mirko Carloni In un'intervista che abbiamo realizzato Qualche minuto prima Dell'arrivo dell'ufficialità Che la regione avrebbe poi presentato Una nuova ordinanza Sentiamo Carloni, un parere Da consigliere regionale Ma anche da giurista Che cosa sta succedendo? Ma sta succedendo che c'è una forma di bullismo Da parte del governo Conte Verso la regione Marche E in questa lotta intestina All'interno della sinistra E del PD Non si tiene conto dei marchigiani E abbiamo assistito ad una cosa Che non sappiamo più neanche come definire Indecente dal punto di vista politico Perché hanno impugnato Al tribunale amministrativo L'ordinanza numero 1 del 25 febbraio Oggi il Tar si è pronunciato Sulla sospensiva Mentre entrerà nel merito il 4 Ma se devo rispondere tecnicamente Potrebbe succedere questo Che la giunta regionale E il presidente Possa valutare E credo che lo stia facendo Insieme agli avvocati Di riemanare una nuova ordinanza Reiterando quell'ordine E quindi in qualche modo Sospendendo gli effetti Della sospensiva Però di fronte a tutto questo Che sembra veramente Una partita a scacchi Per avvocati E per politici Riottosi alla logica E all'intelligenza Ci sono di mezzo i cittadini C'è uno stato di confusione Incredibile La gente non sa come fare Non sa come organizzarsi Abbiamo comunque creato Degli effetti Per prevenire una diffusione Che in qualche modo Danno la possibilità Alla gente di non essere costretta Ad andare nei momenti affollati Negli eventi Nei pubblici spettacoli Nelle scuole Nelle università Ma tutto questo Non può avere Questa isteria Un giorno si apre Un giorno si chiude Ieri eravamo aperti Domani non si sa Cioè questa è una cosa Assurda Poi ci ha detto però Lo stato c'è E si fa rispettare Ma lo stato c'è Mi scusi Delle altre ordinanze Della Liguria Della Emilia Romagna Degli altri casi Non c'è stata nessuna impugnativa C'è stata un'impugnativa Solo per le marche Io sono stato tra quelli Che ha chiesto subito Ceriscioli Di farla E riconosco in lui Almeno il coraggio Di averlo fatto Lo dico sinceramente Senza amore Per la polemica Ma l'atteggiamento Che il governo ha Verso le marche È un comportamento Esclusivo Perché verso le altre regioni Non ha fatto Un'impugnativa Nelle marche C'è una reale emergenza Coronavirus Io non lo so Perché non sono un medico Mi dicono I nostri esperti E i tecnici della regione Che abbiamo in questo momento Tre persone positive Il coronavirus E 60 persone in isolamento Quindi evidentemente Rispetto a lunedì E certamente rispetto a martedì Il quadro del fenomeno è cambiato Ma è possibile che la politica Di fronte a questo Non perda l'occasione Di fare un gesto Così irresponsabile Gettando questa regione Un milione e mezzo Di cittadini Lasciandoli allo sbando Tra una lotta Di bullismo Del governo Conte Nei confronti di un governo Dello stesso colore politico Che però evidentemente Appunto per Una sorta di Riottosità E me lo lasci dire Anche di guerra Tra correnti Del partito democratico Si giochi Sulla pelle dei cittadini Poi come avete sentito I dati sono stati aggiornati A 6 positivi E 100 in quarantena In isolamento Nel servizio Nel collegamento Con Pesaro Si è fatto cenno Anche al Comitato Al coordinamento Che c'è stato Questa mattina Al COC Preseduto dal Sindaco Di Fano E noi siamo andati Proprio questa mattina A seguire Un po' Questi lavori Sentiamo Questa mattina Dopo l'esito Di due casi positivi Al tampone Per il nuovo Coronavirus Accertati Nella città di Fano Convocato nuovamente Dal sindaco Seri Il COC Nella sala Della concordia Della residenza Comunale Alle 8 e 30 Un po' La spicciolata Oltre al primo cittadino Si sono seduti Al tavolo Tutti i soggetti Preposti A presiedere la riunione Polizia locale Dirigenti Assessori Croce rossa E protezione civile Oltre al capo Di gabinetto Pietro Celani Due gli aspetti Presi in esame Un'analisi approfondita Dell'ordinanza Emanata dal governatore Ceriscioli E la configurazione Di ogni possibile Scenario futuro In base all'evoluzione E alla propagazione Del virus Tra la popolazione Fanese Si intanto Vorrei precisare Un aspetto Che non è banale Qualcuno Può allarmarsi Vedendo queste Convocazioni Dei COC Come una crescita Dell'emergenza In realtà Questa è Un'attenzione È una garanzia Per i cittadini Perché si fa In modo preventivo Però in questo momento Non siamo in una situazione Di quel genere Perché Ci sono stati Questi due casi Isolati E adesso Le trattate sanitarie Stanno facendo Tutti il loro lavoro Se dovessero Eserci sviluppi diversi E' chiaro che noi Siamo pronti Anche in quella In questa Però in questo momento Non dobbiamo Allarmarci più Di quello che è Chiaro Non abbassiamo La guardia Però ecco E' tutto sotto Controllo Però ecco Abbiamo anche Sanificato Quindi c'è un'attenzione Cerchiamo Magari anche Di eccesso Di zelo Però preferiamo Magari Fare un passaggio In più Rispetto ad uno In meno Per una maggior Tranquillità E' stato accertato In queste ore Che la fonte Di contagio Dei due anziani I risultati positivi Anche al secondo Controllo Certamente Sono da fonte Esterna Ora quindi Si è aperto Per loro Il protocollo Sanitario Che si applica In queste circostanze Ed anche Coloro Con cui sono venuti In contatto Negli ultimi 14 giorni Sono sotto osservazione Delle autorità Sanitarie Il COC Serve anche Per coordinare La macchina Del volontariato Di importanza vitale In questi casi Per l'imprescindibile Apporto umano Che mette in campo Quale sarebbe Nel caso La vostra operatività Cioè Quale sarebbe Il primo intervento Che sareste chiamati a fare Sicuramente Il montaggio Delle tende Se servono Oppure Qualche pasto Oppure Nel portarli Come abbiamo fatto Nell'emergenza Tremoto Andavamo a casa Di E naturalmente Qui ci saranno Dei limiti Dove possiamo arrivare O meno E questo è il nostro compito In supporto In aiuto Nei numeri E nella quantità Allora Gli operatori Della Croce Rossa Come stanno prendendo Immagino Con abnegazione Senso del dovere I suoi colleghi Tranquilli Non mantengono Quelle che sono Le norme Usuali Di igiene Nessun allarmismo Niente Di particolare La stessa cosa Diciamo anche agli altri Non c'è bisogno Di allarmarsi Tranquilli Lavaggio delle mani Senza tante Uso di cloro Acqua e varichina Allora c'è un Doveroso aggiornamento Anche per quanto riguarda La notizia Che è stata data Nelle ore Nei giorni scorsi A proposito Di un isolamento Di un controllo Di un uomo A Pian di Meleto Il sindaco Veronica Magnani Ha comunicato Oggi Con un documento Ufficiale Che gli accertamenti Sanitari Eseguiti Appunto Su questa persona Hanno dato Esito Negativo E quindi Questa è La notizia Per quanto riguarda Appunto Il caso Di Pian di Meleto E adesso invece Parliamo Dell'economia Economia Rispetto Al fenomeno E alla situazione Attuale Riguardo al coronavirus Un effetto Più che negativo Soprattutto Nel settore Del turismo E del commercio I numeri Sono davvero Impietosi L'effetto coronavirus Ha avuto Delle ricadute Pesanti Anche sul commercio E turismo Nelle marche La psicosi Minaccia anche La salute Delle imprese A partire Dalle agenzie Di viaggio Dove si Moltiplicano A livello Regionale Le richieste Di cancellazioni Di viaggi Già prenotati E rimborsati Giunti ad agenzie Tour Operator Da quando si è diffuso L'allarme E la presenza Sul territorio Di casi effetti Da Codiv 19 Anche la provincia Di Pesaro Urbino Ha registrato Una battuta Di arresto Molto forte Per le prenotazioni Negli alberghi Una situazione Molto molto brutta Noi abbiamo fatto Un sondaggio Questa mattina Abbiamo un 50% Di calo Gente che Non viene A lavorare Nelle nostre zone Perché hanno paura Di dopo Rimanere fermi Qui Perché diventerà Zona rossa Ho saputo Degli alberghi Alcuni alberghi A Pesaro Hanno chiuso Proprio Definitivamente Perché non avendo Presenze Preferiscono Di mandare in ferie E chiudere L'attività Calo anche nel settore Commercio tradizionale Il direttore di Confcommercio Provinciale Si mostra preoccupato Sulla ricaduta Economica Del territorio Se questa situazione Dovesse perdurare Dice Varotti Creerà danni Incalcolabili A livello economico In tutti i settori Produttivi Questo avrà Una ricaduta Devastante Comunque Sul comparto Economico I nostri associati Quindi sia a livello Commerciale Che di aziende Sono seriamente Preoccupati Diventa anche difficile Comunque reperire La merce Quella che viene Anche dall'estero Quindi siamo Fortemente preoccupati Proprio un calo Di presenze Sia appunto Come dici In centro storico Sia anche Nei centri commerciali Poi a maggior ragione Perché magari Pensano che Nei punti di aggregazione Più importante Sia anche più pericoloso Nel Fanese La preoccupazione Degli esercenti È sempre più evidente Per il calo degli affari A partire dai bar Si sono registrati Dei cali Anche perché L'impatto psicologico Sicuramente C'è stato Adesso vediamo Nel fine settimana Come reagirà la gente Però in questo periodo Sicuramente Ne abbiamo sentito parecchio La gente ha paura di uscire Quindi Vediamo nessuno Neanche fare colazione Lavoriamo molto Molto meno Ieri mattina Ieri mattina Con la giornata di mercato È stato Forse uno dei peggiori Mercati Che io mi ricordo Proprio la gente Non c'era Poi col fatto Della scuola chiusa Al mattino Sembra che ci sia Il coprifuoco Cioè proprio Fino a una certa ora Non si vede Una persona Sta fobia passerà Prima o poi Ho diminuito tanto Il lavoro Ma la città Comunque è proprio deserta Grido di allarme Proviene anche Da confesercenti La categoria Denuncia Il completo annullamento Delle prenotazioni Di servizi Resta la preoccupazione Per la sospensione Delle domeniche Gratuite Nei musei statali Con ricadute Sulle guide E accompagnatori turistici Con rischio Di azzerare La redditività Stagionale Del settore E adesso La cronaca Con l'arresto Di una banda Di ladri Per furti Contro il patrimonio E danni Di esercizi Commerciali Banda che operava Nel Fanese La polizia Nei giorni scorsi Ha concluso Un'operazione Finalizzata Alla prevenzione Alla repressione Dei reati Contro il patrimonio Causati da una banda Specializzata in furti E danni Di esercizi Commerciali E attività Produttive L'operazione Ha tratto in arresto Tre Moldavi Di cui un 45enne E due ventenni Dopo vari servizi Di pattugliamento La mobile Ha avuto modo Di notare La presenza Soprattutto in orari Notturni Mercoledì scorso Di alcuni veicoli Sospetti Nella zona Di Bellocchi Dalle indagini Emerso Che il furgone Condotto Dalla banda Risultava rubato Lo scorso anno Nella provincia Di Ancona Utilizzato dai malviventi Per effettuare Sopraluoghi Nelle diverse zone Della città E nell'entroterra Fanese L'attività Di osservazione Di pedinamento Ha consentito Alla mobile Di osservare Il modus operandi Dei ladri Che utilizzavano Ulteriori due veicoli In supporto Del primo Con la tipica Modalità criminale Delle autostaffetta Allo scopo Di segnalare In anticipo L'eventuale presenza Di pattuglie Delle forze Dell'ordine La rifurtiva ritrovata Tutta relativa Ai furti Appena compiuti Nella zona Di Bellocchi Nelle tre aziende Soprattutto computer Ma riazzavano Veramente di tutto Dai soldi Ai computer A tutto ciò Che era contenuto Nelle varie Diciamo Macchine Che contenevano Le merendine O le bibite Prendevano Di tutto Soprattutto Materiali Diciamo Hightech Che potevano Rivendere E portare All'estero E quindi Cercare di Tirare su Molti soldi Il blocco Delle auto È avvenuto Nei pressi Del casello Autostradale Di Fano Dove in un primo Momento I malviventi Hanno tentato Di colpire La mobile Tentando la fuga Nonostante Una delle auto Staffetta Che aveva fatto Ingresso in autostrada Diriggendosi In direzione nord È stata bloccata Dalla polizia E due occupanti Sono stati tratti In arresto Il secondo Veicolo Della banda Invece Diretto ad alta Velocità In superstrada Uscendo Allo svincolo Di Lucrezia È finito In un fossato Nel tentativo Di sfuggire All'inseguimento Degli agenti Il malvivente Alla guida Ha tentato Di allontanarsi A piedi Ma subito dopo È stato bloccato Dagli agenti Dopo una collutazione Che ha ferito Questi ultimi Mentre il terzo mezzo Con il quarto componente È riuscito A fuggire verso Fano Facendo perdere Le proprie tracce I tre ladri Identificati Senza fissa dimora Sul territorio nazionale Sono stati arrestati Con l'accusa Di furto aggravato Resistenza pubblico ufficiale Lesione Ricettazione C'è stato un incendio L'altra sera Sulla strada Che porta Al quartiere Di Gimarra A Fano Un incendio Nel quale Sono rimaste Coinvolte Cinque persone Che sono finite Tutte Alla pronto soccorso Una scintilla Partita da una stufetta elettrica Probabilmente Per un cortocircuito Accesa In una delle poche serate In cui il freddo Si è fatto sentire Ed in una manciata Di secondi Alcuni indumenti Forse in materiale sintetico Si sono subito Trasformati In una torcia di fuoco Dalla quale poi Si è sviluppato Un incendio Che ha devastato Tutto l'appartamento E' successo Nella tarda serata Di ieri Attorno alle nove In una palazzina A due piani In via di Villa Giulia L'incrocio Con via Le Romagna Lungo la statale 16 All'altezza Del semaforo Di Gimarra L'affettuario Un extracomunitario Originario del Senegal Ha tentato In tutti i modi Di spegnere Il principio di incendio Procurandosi anche Un'ustione di primo grado Alla mano Ma in vano Ormai L'appartamento Era saturo Di denso E acre fumo Che attanagliava La gola E le fiamme Avevano guadagnato Terreno Ed è stato costretto Così Ad uscire di casa E dare l'allarme Lasciando L'appartamento In balia delle fiamme Anche il secondo piano Della palazzina È stato ben presto Invaso dal fumo E altri quattro Suoi connazionali Tra cui delle donne Sono stati costretti Ad abbandonare La struttura E a riversarsi Per strada Data che l'aria Era ormai Divenuta Irrespirabile Sul posto immediato L'arrivo Dei mezzi Di soccorso Due ambulanze Delle 118 Che hanno assistito Le persone coinvolte E trasportate Al Santa Croce Per un principio Di intossicazione Da fumo E l'uomo Anche per curarsi L'ustione Alla mano Impegnativo L'intervento Dei vigili Del fuoco di Fano Accorsi sul posto Con due mezzi Tra cui l'autobotte Assieme all'autoscala Arrivata da Pesaro Che alla luce Delle foto elettriche Hanno aggredito Le fiamme Estinguendo l'incendio In poco meno Di una mezz'oretta Sul luogo Anche una volante Del commissariato di Fano Per eseguire I rilievi E le indagini Oltre a una pattuglia Della stradale Che ha gestito La viabilità Al senso alterno Sulla nazionale Durante tutto L'intervento Dei vigili del fuoco E del 118 Lo stabile Poi a fine incendio E' stato dichiarato Inagibile Dei vigili del fuoco Torniamo a parlare Un attimo Di coronavirus L'ASET L'ASET SPA Invita I cittadini A rivolgersi Agli sportelli Aziendali Soltanto in caso Di necessità Per precauzione Una precauzione Ulteriore Per contenere La diffusione Del coronavirus Prima di recarsi Di persona Dagli operatori Qualora si presentino Eventuali problemi Da risolvere E' preferibile Ricorrere ai contatti Telefonici Oppure ai servizi Online Nel caso La soluzione Non sia trovata Attraverso questi canali E' comunque possibile Recarsi Agli sportelli Aziendali Che resteranno Regolarmente aperti Negli orari Usuali Un terremoto Di magnitudo 2.6 E' stato avvertito Nella zona di Serrungarina Questa mattina Intorno alle 7.48 Ad una profondità Di 34 km Non si registrano Danni A persone O cose Il dirigente Superiore Della Polizia Di Stato Michele Todisco E' il nuovo Questore Della provincia Di Pesaro E Urbino Nato a Foggia Il 18 giugno Del 59 Laureato in giurisprudenza All'Università Degli Studi di Bari Sposato E con quattro figli Entrato a far parte Della Polizia Di Stato Nel 1985 Dal 2017 Ricopriva L'incarico Di responsabile Della seconda zona Della Polizia Di frontiera Della Lombardia Mantenuto Sino al suo Insediamento Al vertice Della questura Di Pesaro Urbino Avvenuto Il 24 febbraio Scorso E adesso Una breve di sport Per parlare Di Filippo Magnini E della sua Assoluzione Il TAS Infatti ha assolto Magnini E ha annullato La squalifica Quattro anni Per doping Combinata All'ex campione Azzurro di nuoto Dagli organi Di giustizia Sportiva italiana Ho aspettato Che la verità Venisse fuori E ora sono Il più felice Del mondo Ha detto Il due volte Campione mondiale Dei 100 metri Stile libero Che era finito Nel mirino Per la frequentazione Con il medico Guido Porcellini A sua volta Sotto processo Penale Il telegiornale Il telegiornale Finisce qui Grazie per la vostra Cortese attenzione Tra poco Una nuova puntata Di Guarda chi c'è E poi Sviluppo Marche L'informazione Su Fano TV Il canale 17 Torna domani mattina In diretta Alle 7 Con occhio Ai giornali La rassegna stampa Ma come sempre Vi ricordo Che le notizie Sono in aggiornamento Continuo Sul nostro portale Occhio alla notizia.it Arrivederci